dal menu delle applicazioni scorrere fino alla voce impostazioni quindi selezionare email e account e poi aggiunge account scorrete il menu verso il basso e scegliere configurazione avanzata inserire l'indirizzo email completo della casella che si vuole configurare e la relativa password andare su avanti selezionare email internet quindi inserire sul nome dell'account una descrizione per l'indirizzo email nel campo il tuo nome il nome che si desidera far visualizzare per i messaggi in uscita digitare per il server della posta in arrivo imaps.aruba.it su tipo di account scegliere imap 4 su nome utente inserire il nome della casella per esteso digitare per il server della posta in uscita smtps.aruba.it assicurarsi che le opzioni il server di posta in uscita richiede l'autenticazione e usa le stesse credenziali per inviare le email siano spuntate selezionare la voce impostazioni avanzate quindi abilitare entrambi i box richiedi ssl per la posta in arrivo e richiede ssl per la posta in uscita scegliere infine accedi per terminare la configurazione